Per il 2021 ogni interprima rata IMI per alberghi, affittacamere e rifugi è quanto stabilisce la legge d'iniziativa della Giunta approvata nella sessione di novembre dal Consiglio Provinciale con 18 sì e nessun voto contrario. Essa contiene anche una disposizione che tiene conto delle maggiori entrate risultanti dai recenti accordi con il Governo relativi alla riduzione del contributo alle finanze pubbliche e al riconoscimento delle entrate spettanti alla provincia. In quanto la situazione pandemica il presidente Arno Compacere e l'assessore alla sanità Thomas Wittmann hanno segnalato un'incidenza settimanale più elevata rispetto alle altre regioni italiane, da ricondursi al minore tasso di vaccinazione e ribadito l'invito a vaccinarsi. La provincia, è stato detto, sta chiedendo allo Stato di poter introdurre misure mirate di contenimento anche in zona bianca. I consiglieri hanno chiesto informazioni sul rilevamento degli anticorpi e sulla terza dose. In merito ai primi, oggetto anche di un voto sovrapartitico di Enzian, Freiheitlichen Südtiroler Freiheit e Perspective für Südtirol, per considerarli per il rilascio del Green Pass, è stato risposto che mancano ancora dati relativi alla quantità che garantirebbe tutela, mentre per quanto riguarda il secondo sarà avviata una campagna informativa. Il plenum ha quindi approvato il bilancio del Consiglio provinciale per 14 milioni e 900 mila euro e la proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri di nominare l'avvocata Ulrike Lobis a Consiglieri di Stato. Delle proposte dell'opposizione sono state accolte quella dei Freiheitlichen, sottoscritta dalla SVP, che chiedeva di verificare con Alperia ed altri concessionari le possibilità di produzione di idrogeno estratto dall'acqua ed un eventuale programma di incentivi. È quella di Fratelli d'Italia per promuovere una campagna di informazione relativa ai gravi effetti nocivi del fumo passivo su giovani e sulle donne in gravidanza. Tra l'iniziativa respinte due mozioni di sui Tirole e Freiheit e Movimento 5 Stelle per l'introduzione del bonus elettrico promesso alle famiglie. La Giunta ha spiegato che si era deciso di utilizzare l'energia gratuita a disposizione della provincia per alimentare ospedali e scuole. Noa anche ha un disegno di legge dei Freiheitlichen contenente misure per rendere più accessibili i prezzi degli alloggi dopo che l'assessora Deig ha riferito che la situazione era molto più complessa. Approvata invece due mozioni dell'SVP al fine di finanziare attraverso il programma LIDER solo progetti sostenibili e di elaborare un regolamento d'esecuzione alla legge tutela della natura al fine di tutelare le proprietà agrarie sensibilizzando in questo senso la cittadinanza.